Siamo con mister Cossari del Girifalco al termine della gara Girifalco-Badolato terminata con il risultato della vittoria del Badolato per 2 a 1 una partita non molto bella rispetto alle precedenti esibizioni e comunque sfortunata il primo gol del vantaggio del Badolato è arrivato su un pasticciaccio difensivo poi tre legni colpiti quindi una giornataccia sì giornataccia quindi è innegabile che noi stiamo vivendo un periodo negativo naturalmente siamo pure sfortunati perché ci stava stretto il pareggio figuriamoci la sconfitta periodo negativo abbiamo fatto un buon primo tempo il secondo tempo un po' meno abbiamo comunque costruito le nostre occasioni siamo stati sfortunati perché abbiamo colpito tre legni ha fatto un paio di interventi anche il portiere suo noi due erroracci e quindi anche oggi portiamo a casa zero punti dispiace dobbiamo cercare di lavorare speriamo bene per il futuro in questo momento è dura è difficile ci aspettano adesso tre gare difficilissime adesso avremo dei trasferti è normale che dobbiamo guardare i play out cercare di evitarli bisogna cercare di allenarsi con costanza secondo me poi alla fine il lavoro dovrebbe pagare ugualmente sicuramente abbiamo dei limiti ci manca un finalizzatore ci sono state ci sono assenze importanti anche oggi due assenze molto importanti tra cui l'attaccante e il portiere però non è un alibi questo ripeto la squadra il primo tempo mi è piaciuta siamo stati anche sfortunati ma alla fine comunque raccogliamo zero punti purtroppo diciamo che il 50 per cento della rosa purtroppo ha una disponibilità limitata per quanto riguarda gli allenamenti quindi facciamo pure fatica a trovare il a trovarci tutti insieme a lavorare in un certo senso perché comunque il lavoro giustamente viene prima di tutto e quindi per esempio c'è un Davide ma anche lo stesso Domenico che fanno fatica a trovare e a riuscire a dare continuità agli allenamenti e questo si è visto anche nel secondo tempo che andiamo in debito di ossigeno e quindi è veramente difficile è un periodo negativo speriamo di trovare soluzioni e riuscire a dare continuità anche agli allenamenti e al lavoro che stiamo cercando di bisogna serrare le fila insieme Sì speriamo bene speriamo bene per il futuro è un momento difficile per la squadra Siamo con Pultrone un calciatore del Badolato seconda vittoria esterna importantissima per voi Sì è stata una vittoria importante anche perché qui è un campo molto difficile abbiamo avuto negli anni precedenti sempre problemi a fare risultato però oggi è andata bene siamo riusciti a vincere abbiamo fatto tre punti importanti e pensiamo per finire bene questo anno con Chiaravalle speriamo E comunque è una vittoria che vi porta fuori dalla zona bassa della classifica in pratica è una vittoria importantissima tra le altre cose Sì 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 dopo aver vinto pure il recupero settimanale mercoledì con il Nuova Valle questa era anche una trasferta che noi abbiamo preparato bene anche se avevamo pure qualche defezione a livello di infortunio però ce l'abbiamo fatta e l'importante è aver raggiunto il risultato Con un po' di fortuna, tre pali, il primo gol pasticciaccio della difesa giri francese Sì diciamo che alla fine siamo stati pure un po' fortunati abbiamo anche trovato un arbitro veramente bravo che ha saputo tenere la partita senza commettere grossi errori Sì abbiamo sbloccato su una loro incertezza in difesa poi ci siamo fatti pareggiare la partita con un grande del loro gol su punizione poi alla fine è arrivato il gol, speravamo in questo gol, è arrivato e meno male così Grazie a tutti